La soresinese spugna Soncino e poi come regalo domenica festeggia anche la fuga a più 4 con 180 minuti da giocare per Andrea Mizzotti e i suoi l'eccellenza è molto più vicina. Soncinese avanti per prima col tentativo in bello stile di biglietti. Risponde sul lato sinistro la soresinese con Brunetti che cerca il cross ma non trova compagni. Ci prova poi Guerci da fuori, pall out non di molto mentre Brunetti dopo un clamoroso errore difensivo e non sarà l'unico si presenta davanti a Milanesi ma non riesce a batterlo. Segue una punizione di Guerci con girata di De Santis troppo centrale. Al diciassettesimo improvviso visto come sta andando la partita il vantaggio locale. Punizione di Ghidinelli, Maffei rompe in area e batte così Ghidini. La soresinese risponde prima De Santis allarga troppo un cross di Guerci poi Miertezza si gira in area di rigore ma spedisce la palla larga rispetto ai pali. Ripresa, Miertezza impegna da fuori area a Milanesi dopodiché Donnini con una magia da piazzato pesca a Ruscittu che non riesce a superare col pallonetto Ghidini. Un nuovo spunto di Donnini rintuzzato è il canto del cigno di una son cinese che si fa male da sola. Come già nel primo tempo, errore in uscita dalla difesa, Miertezza prende palla e trova l'angolino lontano con un gesto da insegnare probabilmente anche al Berardi visto in nazionale. La son cinese perde sicurezza e protesta con l'arbitro. Viene espulso Doi per doppia munizione, Ghidinelli alza di poco una stangata dal limite, poi anche Donnini va fuori per proteste. Mentre i locali sono in dieci viene annullato un gol a Badawi dopo un flipper tra Milanesi e De Santis all'ottantasettesimo con i locali in nove. Il gol vittoria arriva però decisivo forse anche per il campionato e stavolta è un gol valido. Lo segna De Santis sotto la pioggia dopo un doppio rimpallo su Guerci con la son cinese che protesta in modo forsennato per un fuorigioco non rilevato a detta dei locali.